Durante la trasmissione, ha voluto mettere in chiaro le sue ambizioni riguardo all'acquisizione dell'Inter, esprimendo senza mezzi termini la sua filosofia comunicativa senza barriere. Sono scandinavo e per noi la trasparenza è fondamentale. Comunicare apertamente su piattaforme come i social media è nel nostro DNA, ha affermato con fermezza. Con un'operazione finanziaria che fa brillare gli occhi, Zilliacus ha sottoscritto un accordo da 2,5 miliardi di euro con un'accordata di investitori non provenienti dal mondo del calcio, ma con una visione chiara sul potenziale esplosivo dell'Inter. I tifosi rappresentano il cuore pulsante del club e voglio che siano consapevoli delle mie intenzioni, anche se le trattative avvengono in privato, ha precisato con decisione.